Sarà un biceglie d'esperienza quello che Buccaro porrà di fronte alla Paganese per l'andata dei play-out del girone C di Serie C. Senza minutaggio e con l'obiettivo salvezza da raggiungere, il tecnico siciliano si affiderà all'esperienza dei più grandi per portare a casa l'obiettivo nella prima delle due sfide per la permanenza. Il modulo prescelto sembra essere il 4-4-2 in cui non ci saranno l'indisponibile Hassan e gli squalificati Pedrini e Zagaria. Certo del posto tra i pali Andrea Spurio, mentre per la difesa sono in 5 per 4 posti. Ballottaggio a destra tra il capitano Priola e l'ex della gara tazza che molto bene ha fatto contro il Bari. Se dovesse essere preferito il giovane napoletano, Priola scalerebbe al centro, al posto di uno tra Vona e Altobello con girone sicuro di una maglia a sinistra. In mezzo al campo Romizzi, favorito su Maimone e Cittadino con Mansur a sinistra e probabilmente il brasiliano Sartore a destra. L'ex Alessandria però potrebbe essere spostato in attacco accanto a Rocco con l'esclusione di Makota e l'impiego dal primo minuto di Vitale. Più indietro nelle gerarchie invece Cecconi e Musso. Arbitrerà la gara il signor vigile di Cosenza a fischio d'inizio alle ore 17.30.